Ex marito dell'attrice e doppiatrice Claudia Giannotti e oggi marito di Cristina Giacchero. Anche la doppiatrice ma anche adattatrice. È padre dei doppiatori Ruggero e Arturo Valli ed è stato socio della società Attori, Sincronizzatori e della Cast Doppiaggio. Nel 1995 nastro d'argento come miglior doppiatore per il doppiaggio di Robin Williams nel film MRS. Douthfire Mammo per sempre. Tra il 1996 e il 2011 ha prestato la voce al serial killer Ghostface nella quadrilogia di Scream. Inoltre, nel 2010 ha vinto il Leggio d'Oro per la sua direzione del doppiaggio del film d'animazione Up. Come attore è stato fra gli interpreti in televisione della miniserie La Donna di Picche diretta da Leonardo Cortese al cinema con le leggi del desiderio. Nel ruolo del padre del personaggio di Silvio Muccino. È anche un appassionato di fotografia. E i suoi soggetti preferiti sono i nudi femminili. Insegna doppiaggio presto la scuola di doppiaggio Voice Articolo Dubbing.